Ciao a tutti, sono Laura Antichi, vi voglio presentare un'applicazione per registrare che è online Si chiama Reverb Chat Scrivete Reverb Chat nella casella di ricerca di Google e andate al link Reverb Record Share Your Voice Cliccate sull'applicazione Non è indispensabile registrarsi Io sono registrata ma non mi loggo in questo momento per farvi vedere che funziona ugualmente quindi è adatta anche per gli studenti più piccoli Si apre questa applicazione e nell'applicazione vediamo sotto un bottone che dice di installare l'estensione for Chrome Andiamo quindi a installare, se non l'abbiamo già fatto, l'estensione di Chrome di Reverb Record e io l'ho già installata volevo solo dirvi che una volta che l'avete installata di andare a verificare nell'icona delle estensioni quell'icona che compare come una tessera di puzzle Se la spunta, andiamo adesso a trovare Reverb Record è azzurra, intensa, di colore azzurro intenso e quindi è bloccata Se è sbloccata, è sbloccata, bloccatela Ok, ritorniamo a Reverb Chat e andiamo a registrare subito un messaggio Carissimi e carissime questa è una prova di registrazione per vedere il funzionamento dell'applicazione Reverb Chat è utile per inviare messaggi e anche per ricevere commenti Clicco Enter a title e metterò qui avviso un titolo comunque avviso vado a salvare ora salvando mi dirà che se voglio gestire l'applicazione dovrò registrarmi creare un account chiudo la casella non lo creo per il momento e facciamo andare la registrazione per vedere se è andato a buon fine Carissimi e carissime questa è una prova Interrompo vedete che la registrazione quindi c'è stata potrei questa registrazione si chiama avviso posso anche ora potrei anche cancellarla mi dà la possibilità di avere ottenere un codice embed da incollare sui siti oppure mi dà la possibilità di inviare un link agli studenti o ai miei interlocutori perché rispondano a questo messaggio pure di condividere su Twitter come potete vedere allora io posso prendo un link quindi clicco sul link ecco vedete che me l'ha copiato vado ad esempio nella mia casella di posta ok scrivo un messaggio che manderò a un altro mio account potrei mandarlo a uno studente e così via quindi lo mando invece tanto per fare la prova a Laura questo l'antichi eccetera oggetto rispondi non so quello che volete e poi incollo il link che mi è stato dato vado a inviare questo messaggio contenente il link al mio interlocutore mi recone l'altra quindi casella di posta mia e e attendo che il messaggio mi arrivi il messaggio nella mia casella di posta principale nella mia casella alternativa di posta trovo il messaggio che contiene il link il messaggio che si chiama rispondi clicco su procedi e come vedete qui mi dà l'avviso quello che era l'avviso interrompo faccio respond e create new vado a registrare un nuovo messaggio in risposta ecco ho ricevuto il messaggio grazie è stato molto interessante ecco ho ricevuto il messaggio grazie è stato molto interessante do un titolo questo messaggio risposta avviso vado in save chiudo sempre la casella che mi chiede di registrarmi e vedete che ho l'avviso e la risposta all'avviso quindi concludo dicendo che questo è un ottimo strumento didattico per gli studenti perché può essere utilizzato senza registrazione e perché sollecita commenti e interazioni sui contenuti che sono pubblicati arrivederci grazie Grazie a tutti